Musica Condannato a 4 anni e mezzo di reclusione, questa la pena fissata dal giudice del Tribunale di Arezzo Gianni Fruganti a carico di Antonio Di Stazio, il vigilante della Securpol che lo scorso 11 luglio sparì a Bagli Alpino con un furgone carico d'oro per un valore di oltre 4 milioni di euro. Di Stazio che non era presente in aula resterà dunque in carcere per furto aggravato. Il processo si è celebrato con il rito abbreviato secco che consente lo sconto di un terzo della pena. Per noi non è un furto aggravato, è un'appropriazione indebita, ne prendiamo atto. Pensiamo che la pena non sia eccessiva anche se non è neanche irrilevante, però poi ce la vedremo eventualmente in appello. Ammesso di averlo fatto, se uno però commette un reato a 60 anni compiuti significa che non è un delinquente abituale, significa che probabilmente le esigenze della vita, le necessità della vita sono tali per cui si è determinato a fare questo reato. Ma non l'ha fatto per 60 anni, quindi direi quasi tutta la sua vita è stata una persona molto onesta. Il PM Angela Masiello aveva chiesto il massimo della pena, sei anni e otto mesi, con le aggravanti della destrezza, l'ingente valore della refurtiva, il porto d'armi ed infine la rottura del rapporto di fiducia con l'azienda. Gli aggravanti sono stati riconosciuti e noi mireremo ancora ovviamente a farle cadere. Il giudice ha inoltre accolto la richiesta di risarcimento in via provvisionale per la Securpol, che si è costituita parte civile pari a 450 mila euro. All'ex vigilante inoltre sono stati confiscati 1.900 euro che gli furono trovati al momento dell'arresto. Chiaro che doveva essere comunque dato anche un segnale forte perché non si pensasse che basta portarsi via dell'oro per poter poi impunemente beneficiarne del profitto di questi reati. Ancora mistero invece per quanto riguarda l'oro scomparso. L'ex vigilante non ha infatti mai rivelato dove si trovi il metallo prezioso trafugato.